Si è messa in moto questa mattina la macchina per la consegna delle liste a sostegno dei quattro candidati alla presidenza della regione Abruzzo per le elezioni del 10 febbraio prossimo. Ultime 24 ore di tempo prima di conoscere il panorama definitivo di chi sarà ammesso a partecipare alla competizione elettorale. Domani a mezzogiorno scadono i termini per la presentazione delle liste. In campo Marco Marsiglio per il centrodestra, Giovanni Legnini per il centrosinistra, Sara Marcozzi per il Movimento 5 Stelle, Stefano Flaiani per Casa Pound. Mentre si è in attesa della decisione di Maurizio Acerbo per i Fondazioni Comunista Potere al Popolo che rischia di restare fuori dalla competizione elettorale ma c'è tempo fino a domani per presentare le firme a sostegno. I primi a consegnare le liste questa mattina sono stati pentastellati. Sì, presentiamo oggi la lista del Movimento 5 Stelle per la provincia dell'Aquila qui, chiaramente in tutte le altre province stiamo presentando le altre liste. Oggi è il primo giorno, utile, lo facciamo il prima possibile. Lei ha detto che siete sempre i primi. Sì, di solito arriviamo per primi sulle presentazioni delle liste, un po' perché le nostre liste sono sempre preparate con largo anticipo, con un processo democratico, quindi i candidati sono scelti da tempo. Come va con la presentazione delle altre province? Siete nei tempi o c'è qualche defaianza? Sì, due province già sono state presentate, almeno credo, così mi sembra di aver capito, però faremo tutto entro questa mattina. Il numero più cospicuo di liste lo avrà Legnini, arriveranno a 8. Eventuali sorprese o esclusioni si conosceranno entro domenica. L'ufficio centrale regionale della Corte d'Appello ha tempo fino alle 12 per effettuare tutte le verifiche di rito sulle liste procedendo all'ammissione o meno delle compagini alla competizione elettorale. Ma è soltanto entro giovedì 17 gennaio che si conoscerà definitivamente la composizione politica delle liste.